shang mai san la polvere per produrre il polso dal punto di vista della medicina cinese è un grande tonico del chi e dello yin di polmone che può essere utilizzato da molti pazienti che hanno superato la patologia da coronavirus ma continuano ad avere quello che in medicina cinese va sotto il nome di deficit di chi e di yin di polmone quindi tosse secca astenia dispnea la polvere per produrre il polso è una ricetta molto semplice dal punto di vista della medicina cinese perché ha solo tre componenti li vediamo in questa immagine il ginseng a sinistra la schisanda al centro e l'opiopogon japonicus a destra la formula è stata potremmo dire inventata da li don yuen li gao un medico molto famoso nella medicina cinese che visse dal 1180 al 1251 la formula compare in un testo che va sotto il nome di nei wai shang bian huo lun o chiarificazione sui dubbi inerenti alle patologie da cause interne ed esterne li don yuen visse in un periodo che era funestato da guerre funestato da invasioni da carestie da epidemie da povertà e ovviamente era un periodo in cui facilmente i pazienti andavano incontro a disturbi correlati a problemi dell'alimentazione che poi comportavano però anche problemi mentali eccessiva rimuginazione con la compressione all'interno dell'organismo delle emozioni e la possibilità di produrre quello che i cinesi si chiamavano il fuoco yin fu il capo così potremmo dire il medico principale della scuola della tonificazione della terra tonificare la terra significa in medicina cinese tonificare soprattutto gli organi della digestione dell'assimilazione dunque stomaco pancreas digestione e assimilazione di nutrienti fu l'autore di un testo famosissimo il piu e lun nel trattato della milza dello stomaco nel quale compaiono tantissime formule che vengono utilizzate tutt'oggi ma ritorniamo alla polvere per produrre il pozzo lo shang mai san come abbiamo detto gli ingredienti sono soltanto tre il ginseng l'opiopogon e il frutto della schisandra sinensis e questa formula può essere utilizzata in italia sotto forma di miscela di estratti secchi di erbe medicinali ma è disponibile anche in compresse nel mercato italiano qual è la sintomatologia alla quale si rivolge questa formula è quella del deficit dc e in di polmone vediamo quali sono i sintomi tosse cronica con espettorato scarso e difficile da eliminare stanchezza e respiro astenico sudorazione spontanea bocca e gola secche lingua rossastra alla punta per il resto pallida compatina sottile asciutta polso fine in deficit e rapido che cosa è successo dunque in questi pazienti una patologia infiammatoria come potrebbe essere quella da coronavirus ha indebolito sia il C di polmone l'energia del polmone ma ha indebolito anche lo yin del polmone l'umidificazione del polmone per questo la tosse è una tosse secca per questo la bocca e la gola sono secche per questo la lingua è rossa alla punta la punta della lingua corrisponde in medicina cinese al triplo riscaldatore superiore e al polmone dunque rimane un certo calore all'interno del polmone nonostante che la malattia sia sostanzialmente guarita e c'è anche però un deficit dell'energia per cui il resto della lingua è pallida e contemporaneamente il polso è in deficit il polso è contemporaneamente sottile perché fine perché c'è un deficit anche di yin e poi rapido perché nonostante tutto permane una certa quantità di calore a seguito del deficit di yin questa ricetta veniva preparata sotto forma di decotto e spesso nella preparazione di questa ricetta il ginseng veniva sostituito anche da altri form farmaci come per esempio tangshen la radice di monopsis pilosula o si yang shen la radice di panax quinquifolium l'azione ovviamente è quella di tonificare il qi nutrire lo yin promuovere la sequenzione dei liquidi organici e esercitare effetto anidrotico le indicazioni sono quelle della sindrome da deficit di qi e da deficit di yin le vediamo in immagini quali saranno dunque le applicazioni in biomedicina di questa formula stati di convalescenza dopo patologie influenzali con attacco delle prime vie aeree tracheiti bronchiti bronchite cronica tbc bronco neopatia cronica ostruttiva ma anche infisema polmonare e poi alcune patologie cardiache tra le quali quelle cardiache coronariche le aritmie cardiache e miocarditi abbiamo detto che questa polvere contiene tre rimedi soltanto li vediamo in questa immagine a sinistra il ginseng ginseng è l'imperatore della formula che tennifica potentemente il qi e lo rinforza promuovendo così la generazione di fluidi inoltre ha un'azione calmante sul mentale quando il ci dell'individuo è potente lo è anche il ci del polmone e in questa maniera riesce a regolare propriamente anche gli interstizi in maniera tale che i fluidi non sono persi nella zona superficiale del corpo attraverso la sudorazione il rimedio ministro mai mentunga quello che vediamo a destra è l'opiopogon japonicus nutre i liquidi e umidifica il polmone ma azione benefica anche sullo stomaco genere fluidi azione purificante sul calore anche del calore il calore di cuore del limina dunque ansia irritabilità che si possono manifestare in queste condizioni dunque il ginseng agisce più sul ci dei fluidi mentre l'opiopogon agisce direttamente sui fluidi e questa combinazione ha un grande effetto di produzione dei liquidi organici il terzo rimedio il rimedio assistente lo troviamo al centro uvuz la schisandra sinensis trattiene la perdita dei liquidi del polmone ma trattiene anche la perdita dei ci inoltre tonifica i fluidi del rene e in questa maniera fa in modo di trattenere anche la risalita del ci in combinazione con maimendung all'effetto di tonificare potentemente i liquidi insieme con renchen tratte il deficit di chi e di yin li rivediamo una alla volta questi rimedi questo è il ginseng il ginseng è un grande tonico di milza pancreas di polmone all'azione di tonificare i yuen chi di tonificare i liquidi organici però protegge anche lo yin e calma lo spirito è indicato in questo caso perché c'è un deficit di chi di polmone con astenia dispnea respiro breve ma il ginseng può essere utile anche in stati di profonda prostrazione addirittura nelle stati collassiali viene utilizzato quando c'è una carenza di liquidi organici ma anche nelle forme di palpitazioni di amnesia e di detenzioni nervose il rimedio ministro è maimendung lo piopogon giapponicus lo vediamo in questa immagine è sostanzialmente un tonico dello yin di polmone e stomaco che azione purificante sul calore promuove la produzione di liquidi umidifica il polmone umidifica l'intestino e nutre anche il cuore trattando l'agitazione causata dall'eccesso di calore di cuore è un farmaco che tratta il deficit dello yin il deficit del yin a livello dello stomaco il deficit del yin a livello del polmone con tosse secca con espettorato scarso denso talore ematico è utile anche nella stitichezza con feci secche nell'insonnia nell'ansia nell'angoscia vu e z è l'ultimo l'ultimo rimedio di questa ricetta azione astringente contrasta la sudorazione tonifica contemporaneamente il rene e tonifica il ci e il polmone azione anche tonica sul cuore calma e mentale promuove la produzione dei liquidi dunque l'insieme di queste formule è estremamente interessante per trattare questo quadro clinico fino ad ora ho voluto commentare questa prescrizione secondo i canoni della medicina tradizionale cinese ma la ricetta è ben studiata anche in termini di biomedicina tant'è vero che esistono pubblicati su pubmed ben 9981 studi di ricerca che riguardano il panax ginseng 296 che riguardano le azioni dell'opiopogon japonicus e 1194 che riguardano il frutus chisandre inoltre la ricetta come tale e cioè lo shang mai san è studiata da 198 studi di ricerca internazionale concludo dando delle note bibliografiche per chi volesse approfondire questi argomenti il testo farmacologia cinese che è stato edito dalla casa editrice ambrosiana ed attualmente distribuito da noi edizioni di milano e il testo avvicina fitoterapia cinese che invece si può trovare online nel sito ilmiolibro.it e può essere ordinato anche come ebook per pochissimi euro